Il 17 di agosto scriveremo una pagina importante nella storia dello sport finlandese, cioè quando Olly Maki, il fornaio di Coccola, incontrerà Davy Moore, ovvero il campione del mondo in carica. Faremo del nostro meglio per portare il titolo in Finlandia. Vuoi boxare con la telecamera? Fa lo sguardo cattivo. Più veloci, forza Olly! Posso essere onesto? Certo, tu devi essere sempre onesto con me. Insomma, sai, io penso... credo di essermi innamorato. Salve. Sì, arrivederci. Arrivederci. Signore e signori, il panettere di Coccola, ovvio, Maki! Grandioso, continua a lavorare così. Questo è il momento peggiore per innamorarsi. Sì, lo so. Arrivato a questo punto. Salve. 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 Grazie a tutti.